Ex Ranghiari, Marco Caminati, a pochi minuti dalla presentazione della tappa del Vici World Tour di Roma che si terrà qui dal 4 all'8 settembre al Foro Italico, le vostre sensazioni? Partiamo da Marco. Le sensazioni sono positive, ci stiamo allenando, proponendo anche questa competizione che ci terrà qua a Roma e cerchiamo di fare molto bene. Che emozione sarà per te comunque giocare in uno scenario come quello del Foro Italico che a detta di tutti sembra essere comunque uno dei posti più belli per giocare? Sì, sicuramente è un posto incredibile, è un posto molto bello, è un posto diciamo anche nostro e cercheremo in tutti i modi di fare bene comunque il nostro paese e cerchiamo l'obiettivo di portare a casa una medaglia sempre nella nostra terra. Senti Alex, invece per te non sarà la prima volta perché già nel 2010 l'hai esordito qui al Foro Italico. Che cosa che hai riassumato adesso, hai riassumato una cosa nel 2010 che preferivano ricordare. Però comunque sarà la seconda volta che giocherai qui al Foro Italico, che emozione sarà per te a ritornare? Sicuramente una tappa in Italia che mancava da anni e quindi ho un gran voglia di fare il massimo e portare tanti sorrisi e soddisfazione e perché no un bel podio. Va bene, grazie ragazzi. Ciao!